A che manca un pezzetto, forza Shindaiwa, vai! Oh, fatto! Cazzo, te! Cazzo, te! Cazzo, te! Ehi, ci vuole una lama ancora di centimetri! Oh, non ce n'è più! Non ce n'è più di forza o...? No, non ce n'è più di forza! Ti chiedo questo legno qua! Adesso deve venire per forza! Ah, beh, è staccato! Sì, no, è stagliato adesso! Allora, spingiamo avanti! Un attimo! Fammi là! Giro dall'altra, tanto salta fuori che non puoi, dai! Ok! Questo è fuori! Ma metti qui un palmo di mano per far vedere la dimensione del tronco qui davanti, Fabio! Tanto che è ancora attaccato perché uno non si rende mica conto, eh! No! 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 Grazie a tutti